ciao e bentornato sul mio canale youtube oggi vediamo il tutorial di un fantastico esercizio per addominali mountain climber altrx questo esercizio nella versione che vedremo oggi lo inserisco anche non a caso nel programma abx un programma nato per andare a scolpire gli addominali però questo esercizio come in cosa consiste te lo faccio vedere ce ne sono due versioni uno con i piedi a terra e uno con i piedi in sospensione oggi vediamo quello con i piedi a terra e le mani in sospensione allora la posizione questa come nel classico mountain climber a terra andrà ad assumere una posizione di allenamento ok quindi è importante che padroneggi per bene il plank se non hai visto il tutorial va a vedere che lo trovi sul canale da qui andrà a portare prima un ginocchio e poi l'altro il pezzo ovviamente cosa è la cosa difficile in questo esercizio è riuscire a mantenere l'allenamento e quindi l'equilibrio non scomporsi questo che cosa fa è provato scientificamente che un lavoro di instabilità lavora tantissimo sul core sull'addome lavora la cosiddetta core stability ecco perché il trx e anche gli addominali alla sbarra sono veramente un top allenamento per i tuoi addominali per riuscire a scolpirli se ti abbini una dieta ipocalorica quindi al di sotto del tuo fabbisogno è automaticamente sicuro che tu andrai a scolpire il addominali avere la tartaruga ci potrei mettere un mese due mesi tre mesi dipende molto dal tuo sommato tipo qui mi raggancio quindi ai sommati via tipo di corpo se vuoi approfondire sul canale trovi diversi video ok allora andiamo a riprendere bene l'esercizio e vediamo un attimo le cose fondamentali uno la spinta delle braccia non braccia passive quindi non così ma spingo via attivamente ok tengo la spinta attiva delle braccia e da qui tenendo il core compatto vado a portarlo per un ginocchio e poi l'altro ok come posso renderlo più difficile allora fondamentalmente più mi inclino avanti ok quindi ho la forte gravità che agisce meno come forza di taglio più è semplice qui sarà più semplice più vado indietro più aggiungo la componente di lavoro anche di forza oltre di equilibrio quindi qui risulta sicuramente più intenso ok questo è l'esercizio planca al tx ricordo che va bene un qualsiasi suspension trainer che è il primo però ma viene qualsiasi li trovi veramente ovunque decathlon amazon in qualsiasi store online poca azione di euro vai a fare veramente un top allenamento top per l'addome ma anche per il resto del corpo se vorrai ok come ti ho detto trovo questo esercizio all'interno di abx il mio programma per scolpire definitivamente i tuoi addominali grazie all'allenamento in sospensione qua sotto comunque ti lascio la seduta di prova gratuita se lo vuoi provare e noi ci vediamo nel prossimo video ciao da mattia